Ciao amici, benvenuti sul canale degli SH, questa non è un'indagine, quindi non state lì incollati alla poltrona ad aspettare un'indagine in chissà quale posto infestato, ma è semplicemente un video informativo. Allora, dovete sapere che oltre alla passione per i paranormali, che insomma si è capita, io da tanto tempo, da quando sono bambino, ho la passione per la musica, tant'è che scrivo canzoni, sono cantautore, ho fatto 4 dischi ufficiali, quindi con produzioni di un certo rilievo e poi alcune cosine fatte da me in studio a livello casalingo. Ecco, ho diversi video ufficiali, girati in maniera professionale, ho fatto tanti concerti, ho vinto alcuni concorsi, non tutti, però insomma ho la mia buona esperienza, il mio buon bagaglio d'esperienza. Ecco, io volevo solo informarvi di questo, approfittando della vostra bontà, perché ad agosto oggi siete 200 iscritti, anzi di più, abbiamo sfondato la soglia dei 200 iscritti, per cui approfitto della vostra cordialità, gentilezza e bellezza per mettervi a conoscenza anche di questa mia seconda passione, che poi è la prima, perché il paranormale è venuto dopo. Ecco, se per caso vi interessasse ascoltare quello che ho scritto, le mie canzoni e quant'altro, in descrizione metterò due link, uno si riferisce al mio sito ufficiale web, che è www.corradococcia.it e sotto c'è il link del mio canale YouTube, che è poverissimo di iscritti, però ha diversi contenuti interessanti, ci sono dei video girati, torno a ripetere, in maniera professionale, quindi non casalinghi, ma fatti bene, insomma. Ecco, quindi sono video simili a quelli che potrete trovare in altri canali, su altri canali ufficiali musicali. Per cui, se vi interessasse sapere cosa fa questo disgraziato, oltre ad andare ad arrampicarsi nei luoghi infestati, ecco, lo potete scoprire qui sotto, cliccando appunto su questi due link. Iscrivetevi a questo canale musicale, continuate ad iscrivervi a questo, insomma, fate quello che potete. Per me è un regalo, se passate anche dall'altra parte, a vedere cosa ho fatto nel mio recente passato, e magari trovarvi anche lì, quindi discutere un po' di qua e un po' di là. Mi sembra di capire che siamo anche una piccola grande famiglia, per cui sono veramente felice, torno a ripetere, di aver sfondato la soglia dei 200 iscritti. E insomma, quasi quasi vi faccio pure un regalo, vi metto in fondo a questo video, magari qualche frame di qualche video mio. Magari, insomma, così potete assaggiare già quello che faccio in questo canale, per poi passare all'altro e vedere effettivamente tutto nella sua completezza. Vi ringrazio, alla prossima indagine, perché è imminente qualcosa di veramente bello in questi giorni, e vi aspettiamo sempre qui e anche là. Ciao! Mi han detto che su quelle strade grandi vive quello strano mago col cappello bianco e nero. Parigi è una città di moda e lusso, mi ci vuole giusto un mago per sentirmi come a casa. Ti prego non portarmi al ristorante, per dirmi che mi ami per davvero. L'amore è un piatto da gustare piano, fino all'ultimo cucchiaio. L'amore è un piatto da gustare piano, fino all'ultimo cucchiaio.